Trasversalità di competenze, sinergia, cooperazione tra diversi settori. Sono state queste le parole chiave del convegno organizzato da Fondazione Sodalitas a Milano martedì 19 aprile e dedicato al tema della Smart City, un comparto in cui, in base ai dati dell'Osservatorio Nazionale Smart City di Anci, in Italia risultano investiti oltre 3,7 miliardi di euro, in più di 1.300 progetti, che hanno raggiunto circa 15 milioni di cittadini. Durante l'incontro, Sodalitas e CSR Europe hanno presentato in maniera ufficiale gli obiettivi della campagna europea Sustainable Living in Cities, che mira a individuare modelli efficaci di partnership multi-stakeholder per lo sviluppo dei territori urbani. Un'iniziativa che ha portato a un dialogo interdisciplinare tra gli operatori del settore, come ha spiegato Ivana Petovska, project manager di CSR Europe. Sustainable Living in Cities è una campagna che la CSR Europe ha lanciato in 2014, per promuovere la collaborazione multistakeholder. Since 2014, dove l'intenzione era di promuovere e anche di inspirare la collaborazione multistakeholder, abbiamo fatto una serie di webinari, per ottenere un'informazione di come si sembrava lavorare con le cittadini e le negozioni. e, in questo caso, abbiamo fatto un dialogo con i politici, con le cittadini e con le cittadini e con le cittadini locali, con le esperti e con le nostre compagni e le nostre partneri, per capire che sono già riusciti, per capire che è già iniziato e per capire che potrebbe supportare collaborazione. In un anno, in 2015, abbiamo organizato una serie di dialogi locali di stakeholder, che potrebbe promuovere collaborazione con le cittadini in 5 cittadini in 2015. In 2015, abbiamo iniziato in Latvia, abbiamo iniziato in Turkey, in Spain, in Italia e abbiamo finito in Belgio in 2015. E questo anno, in 2016, abbiamo fatto due lavorazioni, una in Portugal e una in Italia. Ora, in questo momento, con il progetto, il nostro obiettivo è cambiare di promuovere le cittadini e per rappresentare la nostra visione per la campagna di vivere in cities, e quello è creare un impatto globale per innovare in un'occolta, di economia locali staggiale. E come questo sembrava? Abbiamo in questo primo fase, di 2015 e 2014, abbiamo apprendato tre importanti cose, and that is that we need to enhance the capabilities of companies to collaborate and to innovate with others and at the same time we should create and support platforms for action so really those actors or facilitators that would enable others to work together better and last but not least the third real big realization that we had was that we need to also focus on action enabling policies so when we actually come to creating new solutions and new services for the cities where we live in we are able to deliver on that in practice in terms of some examples that we had from last year we actually could say that the success of our national partners who organized workshop on the local level of us on the more european level of our companies is how close did they get to their stakeholders in the city area their stakeholders in the local urban environment and this is for us measured by the fact that there is a more dialogue that is starting on the local level through our companies and through our national partners one of the concrete examples could be that when we had an opportunity last year to to help progress on an already existing collaboration between city of amstelven to maybe encourage further continuation of the collaboration with companies we were very happy to have this opportunity to help our national partner csr netherlands our some of the member companies and city of amstelven to continue this dialogue putting the people together so we at that point acted as an enabling platform for specific amount of time and other than that csr europe is actually a network so for us the fact that we can bring together examples of all the good things that are happening to enhance collaboration between cities and businesses is very important we launched a business impact map specifically on sustainable living in cities campaign last year in 2015 and i would welcome anybody who has a good example of collaboration a new initiative or new service or product that they developed and launched together with the city or urban stakeholders to also contribute it's a website and anybody can contribute and map out what they do in the course of the meeting is also in the course of the present at the cresco città sostenibili award initiative promossa da sodalitas in partnership con anci in the ambito di sustainable living in cities per premiare i comuni o le associazioni di comuni che presenteranno i migliori progetti di sostenibilità ambientale sociale ed economica advocate an O.K. A. B. A.